34 anni dopo la doppia finale con il Padova, la Salernitana ci riprova, la Coppa Italia di Lega Pro non è certo la Champions League ma comunque un trofeo che fa gola. La proprietà è stata chiara dopo la Supercoppa dello scorso anno, vogliamo anche la Coppa Italia, hanno detto mezza Roma e lo titolo in questi giorni. Gregucci ha recepito il messaggio, la Coppa Italia può far da volano al finale di stagione che di fatto rappresenta il grande obiettivo della stagione. Questa sera spazio a qualche giocatore meno utilizzato ma ci saranno pure i titolari perché la Salernitana nella diretta di Resport a partire dalle 20.40 non vuole affatto sfigurare, anzi vuole dare un segnale forte alle rivali della prima divisione. C'è una categoria di differenza tra Monza e Salernitana ma i Granata non si fidano affatto, sulle gradinate sono annunciati meno di 3.000 spettatori, poco meno di 200 quelli di Fede Granata. Gregucci non cambia modulo, 4-2-3-1 ed in campo dopo una settimana di ritiro e dopo il K.O. di Grosseto chi sta decisamente meglio. Il ritorno è in programma a metà aprile alla Richi. Dovrebbe consentire a questa squadra di capire l'importanza del proprio organico, delle proprie potenzialità, ci potrebbe costituire una spinta ulteriore per il rush finale di questo campionato dove chiaramente si dovrà decidere il posizionamento in rapporto a quello che accadrà nei prei rossi. Se dovesse barattare la Coppa per un piazzamento importante per i play-off per l'Abi lo farebbe? Il piazzamento no, il piazzamento no e la vittoria del campionato sì. Noi dobbiamo accedere nella parte nobile dei play-off e io penso che sia invece importante che la squadra raggiunga il risultato della Coppa perché può costituire un ulteriore elemento di autostima che consente di poter nel rush finale di questo campionato fare esprimere al meglio la squadra.